bella a tutti ragazzi e benvenuti come e benvenuti io sono Xioner oggi ragazzi video di Clash Royale per tutti voi che ce l'avevate chiesto ragazzi abbiamo da aprire due bauli del clan più un baule delle missioni cosa c'è da ridere perché c'è da ridere non sa neanche cosa deve aprire ragazzi ma tra l'altro in tutto questo c'è dentro anche la sfida touchdown quindi una bella partitella in touchdown ci sta raga andiamo a farcela di prepotenza dentro così dentro così ragazzi dai allora siamo contro Lord Dust dai commentala tu commentala siamo contro Lord Dust tra i vasta a col proprio partite cioè ma vasco col tuo con il tuo deck porco giuda questa la perdiamo di brutto raga questa la perdiamo di brutto raga attenzione a cussi attenzione a cussi quindi c'è anche il doma gg attenzione attenzione al doma che scappa quello di vita e andiamo a chiuderla così che la doveva perdere così domatore prepotente ragazzi domatore prepotente se ne va dai che andiamo ragazzi dai che andiamo attenzione attenzione subito domatore anche per lui raga andiamo a deviarlo deviarlo con una tesletta vediamo cosa decide di giocare lui a gelo super cattiva super cattiva la gelo gli aceri non ce la fanno con una poison con un'altra non ho capito questa non l'ho capita raga questa non l'ho capita cazzo non ho capito un cazzo aspetta un attimo aspetta un attimo ancora con il doma susseguito da tutto il mondo ragazzi vai che andiamo vai che andiamo lui va a gelare lui va a gelare easy easy busy easy busy scisi il doma va dentro così di cattiveria petit ignorante al touchdown ragazzi aspetta e aspetta e aspetta un momento aspetta un momento che devo capire cosa gioca questo domatore ancora per lui andiamo a deviare così andrà a congelare subito e noi sotto col tris sotto col tris pronta la doppia gelo per lui sicuro ecco la doppia gelo spirito dell'ice tronco a spinger via entra anch'esso a doma ma che ignoranza è ma che ignoranza è ho trattato 2 a 2 attenzione attenzione mica vai doma vai 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 pronta la fire pronta la fire pronta la mega fire attenzione il mega doma va il mega doma va ragazzi me lo vanno a congelare bastardo bastardo è persa ragazzi è persa è persa per dire ignorante col domatore attenzione proviamo uno spirito dell'ice per i fatti suoi attenzione ancora lui va a giocare un tris di goblettini spirito dell'ice che se ne va per i fatti suoi vai che andiamo col doma andiamo c'è la gelo c'è la gelo questo raga c'è la gelo c'è la gelo questo raga tentiamo anche un tronco una fireball di protezione estrema la mega fireball che va sul suo spiritino del ghiaccio e andiamo a buttare giù il doma così a buttarlo di là ragazzi e ci portiamo a casa la prima wins andiamo a vedere un po' cosa vinciamo andiamo a vedere un po' cosa vinciamo va bene uh degli arcieri un arciere un arciere non ci serve perché ce l'abbiamo che cacchio sto facendo non ci serve perché ce l'abbiamo già ma siamo pronti per andare ragazzi intanto a donare le carte nel clan prot e poi ad aprire il baulozzo del clan vai attenzione questi 120 di gold 7 skip 33 tesla ragazzi queste infilate nel deck di prepotenza e ancora le sto giocando molto utile 7 mega sgherri questo non lo uso 78 luridi cavernicoli bad situa ma perché non mi dà mai il peca perché non mi dà mai il peca 129 orde di sgherri 20 torri bombardiere e 2 golem che brutto baule che brutto baule bene ragazzi è il momento di andare nel deck della pami swish ed eccoci qua ragazzi nel deck nel profilo della pami c'è un sacco di soldi 157 mila soldi più baule del clan da aprire baule gigante da aprire due baule giganti da aprire vabbè ma la pamina ma quanta roba c'è dai apri subito sto baule gigante così di prepotenza vai vai apri più di una credenza di prepotenza abbiamo 924 di gold not bad abbiamo 55 capalleros questo invece non lo usi usavi come mi servono a me a questo ragazzi 91 tesla vai così pure questi 100 arcieri vai così 62 torre bombardieri veramente brutta abbiamo anche il paulettino easy il paulettino il paulettino il paulettino c'è il super magico però attenzione c'è il super magico apriamo anche l'argentino che tanto non ci interessa non capite io tutto asserba poi mi riapri i tempi se è così è roba tua apri anche il secondo giant allora vai no no lo tiene lo tiene andiamo a farci una partita ancora in touchdown ragazzi con il deck della pami fammi un po' vedere che deck hai proviamola proviamola ragazzi non lo so non lo so un po' pericoloso un deck lento come quello della pami ci proviamo lo stesso allora sto in ignoranza prima con il lanciare gli hog rider 8 questo subito con l'hogra eh sì questo c'ha l'hog gelo l'hog freeze l'hog freeze raga è ovvio 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 persa partita già persa con l'hog freeze non c'è nulla da fare non si può vincere non si può vincere purtroppo ce l'avrà sempre all'inizio questo io lo spero vado col gent ma se lui mi gira uno grinder e una freeze ovviamente andiamo a perdere andiamo a supportare il gent con il bombardino spirito del ghiaccio pronta la fireball a togliere gli arcieri via così lui entra di nuovo con l'hog rider vediamo se va il giant zappiamo un attimo log zappiamo un attimo log che purtroppo è troppo veloci viene congiato il giant e c'è ben poco da fare ragazzi ogrider da solo partita già segnata dopo pochi secondi a 40 secondi dall'inizio direi che non c'è nulla da fare con il tuo deck lui avrà nuovamente un hog freeze quindi potrà senza problemi andare a congelare le mie truppe non avendo io una struttura purtroppo la partita è già persa proviamo un giant di là vediamo cosa succede aspettiamo che lui vada a giocare log rider eccolo lo gioca in questo preciso momento vediamo se va a congelare dovrebbe andare a congelare il mio bombarolo andiamo sopra così andiamo sopra così lui congela il bombarolo e va a vincere senza nessun problema 3 a 0 va bene vai ad aprire amore mio il baule del clan vediamo un pochettino se riusciamo a trovare qualcosa di interessante speriamo in una leggendaria vai tutto tuo tutto tuo forza così il baule del clan go vediamo un po' cosa arriva abbiamo 1.620 di gol not bad not bad 8 candy goblin anche queste non lo so 2 estrattori di elisir questi non li usa non so neanche come si usa 4 torre bombardiere 63 barili di orsa interessante potrebbe arrivare 21 arrieti da montare attenzione non c'è non c'è non c'è 169 bombardini che li usa questo li usa e attenzione 3 archi che bello questo arco che brutto che brutto che brutto beh ragazzi questo era il video del mega chest opening dei due voli del clan che baule gigante ciò che ci siamo vai 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 tutto tuo tutto tuo tutto tuo vai vai stronzo 924 di gol attenzione così 71 giganti royale i block shooter royale sono questi 17 cure not bad 576 goblin e niente da fare e poi me lo dite che nei voli giganti è una merzia 44 tris di moschettieri va bene ragazzi va bene direi che il video per oggi può finire qua se vi piace il video lasciate un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale perché ve lo dice la famina e attivate la campanella e attivate sempre la campanella per essere aggiornati quando youtube ha voglia di mandarvi le notifiche noi ci vediamo presto ciao ciao Oh! On and on will go!